Anticipazioni Beautiful, venerdì 14 maggio 2021. Thomas si avvicina al figlio ribadendo il suo pensiero riguardo a Zoe. Pian piano capirà che il papà ha fatto tutto questo solo per garantirgli una vera famiglia. Successivamente il ragazzo chiama Vinny per informarlo della proposta di matrimonio. Il giovane sconvolto non sa cosa rispondergli. Lo stilista gli fa presente che le nozze non si celebreranno, ha un piano in mente. Zoe spiega a Brooke di essere felice della sua nuova vita. Considera Thomas un buon padre e un buon marito. La Logan la prega di non illudersi. Estorce il naso certa che l'ossessione del Forrester per Hop verrà fuori. Eric stoppa la Logan non vuole che continui a rovinare un momento così bello che merita solo di essere festeggiato. La Logan insiste, non vuole vedere quella povera ragazza rovinata dallo stilista. Poi aggiunge di essere convinta che Thomas non sposerà mai la Buckingham e solo se arriverà davvero a farlo potrebbe ottenere il suo perdono. Zoe intanto si ricongiunge al suo futuro sposo che ha allestito una camera di Villa Forrester romanticamente per lei. Grazie a tutti. Grazie a tutti.